Giuseppe Bergantino e Mirko Di Vincenzo vincono la nuova edizione del Rally Porta del Gargano valida come Coppa Rally di zona. Il pilota di Manfredonia sulla scoda Fabia R5 del team Colombi ha vinto ben 5 delle 7 provi speciali in programma per la sesta volta su nuove edizioni quindi scrive il proprio nome nell'albo d'oro.